Ciao a tutti, sono negli Stati Uniti, a Orlando e a Orlando ho voluto portare un pezzo della nostra grande Italia abbiamo chiamato questo ristorante Big Italy io sono un appassionato di cucina ho sempre desiderato esportare la nostra eccellenza la nostra cucina eccellente e abbiamo creato questo posto signori, aspetto tutti, ci vediamo, vieni? Accomodatevi 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 Bello, eh? Se venite a Orlando, Florida, Stati Uniti, ricordatevi, International Drive, 5700, Italy, Grande Italia. Ciao, signore, ci vediamo, ci vediamo, e chi dice ci vediamo, ci vediamo, paga di meno. Ciao. Vi aspetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.